Moglie del colonnello di William Somerset Mugham Quanto racconterò successe due o tre anni prima dello scoppio della guerra. I Peregrine stavano facendo colazione. Sebbene fossero soli, sedevano ai capi opposti della lunga tavola. Dalle pereti li guardavano gli antenati di George Peregrine, dipinti dai pittori in voga al loro tempo. Il maggiordomo portò la posta del mattino. C'erano parecchie lettere per il colonnello, lettere d'affari, il Times e un pacchetto per la moglie Evie. Il colonnello diede un'occhiata alle lettere e poi aprì il Times e cominciò a leggere. Finita la colazione, i Peregrine si alzarono da tavola. Il colonnello notò che sua moglie non aveva aperto il pacco. Che cos'è? domandò. Niente di importante. Libri. Vuoi che te lo apra? Se non ti spiace. Il colonnello odiava tagliare i cordini, quindi anche se con un po' di difficoltà sciolse i nodi. Ma sono tutti uguali, disse, dopo aver svolto la carta. Ma che cosa ti servono sei copie dello stesso libro? Ne aprì uno. Poesie. Poi guardò il frontespizio. Piramidi in sfacelo, lesse. Di E.K. Hamilton. Eva Catherine Hamilton. Era il nome di sua moglie prima di sposarsi. Il colonnello sollevò gli occhi con un sorriso stupito. Hai scritto un libro, Evie. Sei una furfantella. Pensavo che la cosa non ti avrebbe interessato. Ne vuoi una copia? Beh, sai che la poesia non è il mio genere, ma... Sì, mi farebbe piacere, lo leggerò. Me lo porterò nello studio. Questa mattina ho molto da fare. Il colonnello raccolse il Times, le lettere e il libro e uscì. Il suo studio era una stanza ampia e comoda, con una grande scrivania, poltrone di cuoio e trofei di caccia alle pareti. Gli scaffali erano pieni di opere di consultazione, di libri di agricoltura e di allevamento, di giardinaggio, di caccia e di pesca. E di libri sull'ultima guerra, durante la quale il colonnello aveva ricevuto una croce di guerra e altre decorazioni. Prima di sposarsi, infatti, era stato nelle guardie del Galles. Alla fine della guerra si era ritirato e si era dedicato alla vita del gentiluomo di campagna, in una spaziosa casa a una trentina di chilometri da Sheffield, costruita da uno dei suoi avi durante il regno di Giorgio III. Giorgio Peregrin possedeva una tenuta di circa 1500 acri, che amministrava con competenza. Era giudice di pace e svolgeva le sue funzioni coscienziosamente. Quando veniva la stagione, partecipava due volte alla settimana alla caccia alla volpe. Era un buon tiratore, giocava a golf e, sebbene avesse ormai superato i 50, era ancora un osso duro a tennis. Poteva correttamente definirsi uno sportivo completo. Negli ultimi tempi era ingrassato, ma aveva ancora un bel aspetto alto, capelli ricci e grigi che cominciavano appena ad assottigliarsi sul cocuzzolo, occhi azzurri e sinceri, bei lineamenti, colorito acceso. Era un uomo animato da senso civico, presidente di infinite organizzazioni locali e, come si addiceva alla sua classe e alla sua condizione, fedele membro del partito conservatore. Considerava suo dovere provvedere al benessere delle persone che vivevano nella proprietà e lo riempiva di soddisfazione il sapere di poter affidare a Evi la cura dei malati e il soccorso dei poveri. Aveva costruito un ambulatorio appena fuori del villaggio e pagava di tasca sua lo stipendio dell'infermiera. In cambio della sua generosità, chiedeva solo che alle elezioni, tanto generale quanto della contea, i suoi protetti votassero per il suo candidato. Era un individuo amichevole, affabile con gli inferiori, riguardoso con i fittavoli, popolare fra la piccola nobiltà locale. Se qualcuno gli avesse detto che era proprio una brava persona, avrebbe provato un lieve imbarazzo, ma sarebbe stato contento. Il colonnello non voleva essere altro, non desiderava complimento migliore. Purtroppo non aveva figli, sarebbe stato un ottimo padre, tenero ma severo. Li avrebbe allevati come si allevano i figli di un gentiluomo, mandandoli a Eton, naturalmente, insegnando loro a pescare, andare a caccia e a cavalcare. Sta di fatto che suo erede era un nipote, figlio di un fratello morto in un incidente d'automobile, un bravo ragazzo, in fondo magnente, che vedere con il vecchio stampo. No, signori, c'era un vero abisso. E ci credereste? Quella sciocca di sua madre gli faceva frequentare una scuola mista. Evi aveva profondamente deluso il colonnello. Certo, era una signora e aveva un po' di soldi suoi. Era una buona padrona di casa e si occupava molto bene delle faccende domestiche. La gente del villaggio l'adorava. Quando il colonnello l'aveva sposata, Evi era una donna graziosa, pulita e ordinata, con la pelle vellutata e i capelli castano chiaro. Godeva di buona salute e non era una cattiva giocatrice di tennis. Il colonnello non capiva perché non avesse avuto figli. Ormai, naturalmente, era passita. Doveva essere prossima ai 45. La pelle era grigiastra, i capelli avevano perso la loro lucentezza, il corpo era secco come un chiodo. Evi era sempre ordinata e ben vestita, ma non sembrava dare molta importanza al proprio aspetto. Non si truccava e non usava nemmeno il rossetto. Qualche volta la sera, quando sagghindava per una festa, ti accorgevi che un tempo doveva essere molto carina. Ma il più delle volte Evi era... beh, una di quelle donne che semplicemente passano inosservate. Una brava donna, naturalmente, una buona moglie, e non si poteva farle una colpa se era sterile. Ma per un uomo che voleva un'erede dai propri lombi, la cosa era dura da mangiare giù. Evi era priva di ogni vitalità, ecco il suo guaio. Quando le aveva chiesto di sposarlo, il colonnello pensava di amarla, almeno quel tanto che basta un uomo che vuole sposarsi e sistemarsi. Ma con il tempo aveva scoperto di avere ben poco in comune con lei. Evi non provava interesse per la caccia e la pesca la annoiava. Era naturale che si fossero gradualmente allontanati l'uno dall'altra. Il colonnello doveva riconoscere che Evi non l'aveva mai importunato. Mai una scenata, mai un litigio. Evi sembrava dare per scontato che il marito facesse i fatti suoi. Di tanto in tanto il colonnello si recava a Londra, ma Evi non gli chiedeva mai di accompagnarlo. A Londra c'era una ragazza, beh, non si può dire che fosse proprio una ragazza. Aveva tutti i suoi 35 anni, ma era bionda e appetitosa. E il colonnello non aveva che da telegrafarle con un po' d'anticipo per cenare, andare a uno spettacolo e passare la notte con lei. Insomma, un uomo, un uomo normale e sano, deve pur divertirsi un po'. Qualche volta il colonnello pensava che Sevi non fosse stata una donna tanto a modo, forse sarebbe stata una moglie migliore. Ma non gli piaceva intrattenere simili pensieri, li scacciava subito. George Peregrine finì il Times. Da persona premurosa a qual era, suonò il campanello e disse al maggiordomo di portarlo a Evi. Poi guardò l'ora. Erano le dieci e mezzo. Alle undici aveva un appuntamento con uno dei fittavoli. Aveva mezz'ora di tempo. «Darò un'occhiata al libro di Evi», si disse. Lo prese con un sorriso. Nel suo salotto Evi aveva un mucchio di libri intellettuali, un genere che a lui non interessava, ma se la divertivano il colonnello non aveva nulla in contrario che li leggesse. George Peregrine notò che il volume che teneva in mano non aveva più di 90 pagine. Tanto di guadagnato. Come Edgar Allan Poe, il colonnello era convinto che le poesie dovessero essere corte. Sfogliando il libro, però, si accorse che parecchi dei componimenti di Evi erano versi di lunghezza irregolare e non erano in rima. Questo non gli piacque. Ricordava che da bambino, nella sua prima scuola, aveva imparato una poesia che cominciava «The boy stood on the burning death» e più tardi a Eton un'altra che diceva «Ruin size the ruthless king». Poi era stata la volta dell'Enrico V. Avevano dovuto sorbirselo per metà. Il colonnello guardò le pagine di Evi costernato «Questa non è poesia», disse. Per fortuna non tutti i componimenti erano così. Fra le poesie che gli sembravano così strane, con versi di tre o quattro parole e poi uno di dieci o quindici, ce n'era anche qualcuna corta corta, in rima, se Dio vuole, con le righe lunghe uguali. Parecchie pagine erano intitolate semplicemente «sonetto». E per curiosità il colonnello contò i versi. Ce n'erano quattordici. Ne lesse qualcuno. Gli sembrarono onesti, ma non capì di che cosa parlassero. Si ripetè «Ruin size the ruthless king». «Povera Evi», sospirò. In quel momento il contadino con il quale aveva appuntamento entrò nello studio. Posando il libro, il colonnello gli diede il benvenuto e cominciò a parlare di affari. «Ho letto il tuo libro, Evi», disse il colonnello sedendosi a tavola per il pranzo. «Mi è perso buono. Ti è costato molto farlo pubblicare?» «No, sono stata fortunata. L'ho mandato a un editore e lui l'ha accettato». «Non si fanno molti soldi con la poesia mia cara», disse il colonnello con la sua solita bonomia. «Ne sono convinta. Che cosa voleva Bannock questa mattina?» «Bannock era il fittavolo che aveva interrotto la lettura delle poesie di Evi. Mi ha chiesto di anticipargli i soldi per comprare un toro con pedigree. È un bravo uomo e sono quasi dell'idea di darglieli». George Peregrin capì che Evi non voleva parlare del suo libro e fu ben felice di cambiare argomento. Per fortuna, sul frontespizio Evi aveva messo il suo nome da signorina. George Peregrin era sicuro che di quel libro nessuno avrebbe parlato. Ma era molto fiero del suo nome insolito e non gli sarebbe affatto piaciuto che qualche maledetto imbrattacarte deridesse gli sforzi di Evi sui giornali. Nelle settimane seguenti, gli parve indelicato chiedere a Evi notizie della sua avventura poetica e la moglie non vi fece mai cenno. Sembrava quasi che il libro fosse un disdicevole incidente che entrambi, di tacito accordo, avevano deciso di non nominare. Poi però successe una cosa strana. Il colonnello si era recato a Londra per affari e aveva portato Daphne al ristorante. Così si chiamava la ragazza con cui George Peregrin era solito passare qualche ora piacevole ogni volta che andava in città. «Oh, George», disse Daphne, «è tua moglie che ha scritto quel libro di cui parlano tutti?» «Che razza di storia è questa?» «Beh, conosco uno che fa il critico. L'altra sera mi ha invitato a cena. Aveva con sé un libro. Mi hai portato qualcosa da leggere?» «Ho domandato. Che cos'è?» «Oh, non credo che faccia per te», mi ha risposto. «È un libro di poesia. L'ho appena recensito. Alla larga dalla poesia, ho detto, e lui... «È roba che scotta. Non ho mai letto niente di simile. Si vende come il pane. Ed è davvero un buon libro». «Di chi è?» domandò George. «Di una donna che si chiama Hamilton. Il mio amico mi ha detto che non è il suo vero nome. Il suo vero nome è Peregrin. Strano, gli ho detto. Conosco uno che si chiama Peregrin. E lui... «Colonnello dell'esercito. Vive vicino a Sheffield?» «Ti pregherei di non parlare di me e tuoi amici», disse George, aggrottando la fronte contrariato. «Non scaldarti, tesoruccio. Per chi mi prendi? Gli ho semplicemente detto non è la stessa persona». Daphne si lasciò sfuggire una risatina. «Il mio amico ha aggiunto. Dicono che sia la copia del colonnello Blimp». George aveva un acuto senso dell'umorismo. «Tu potresti smentirli», rise. «Se mia moglie avesse scritto un libro, sarei il primo a saperlo, non credi?» «Beh, immagino di sì». Daphne, in ogni caso, non era particolarmente interessata al libro e quando il colonnello cominciò a parlare d'altro, lo dimenticò subito. Anche George lo cacciò di mente. Non c'era di che preoccuparsi, pensò quello stupido di un critico aveva preso Daphne in giro. Si era divertito all'idea che Daphne, sentendo che le poesie erano scandalose, si buttasse sul libro per poi trovarvi un mucchio di fesserie ritagliate in versi di lunghezza disuguale. Il colonnello era membro di parecchi circoli e il giorno dopo pensò di pranzare in uno di St. James Street. Doveva prendere il treno per Sheffield nel primo pomeriggio. Mentre comodamente seduto in poltrona beveva un bicchiere di sherry prima di andare in sala da pranzo, fu avvicinato da un vecchio amico. Ehi, come va la vita? Che sensazione fa essere il marito di una celebrità? George Peregrine guardò l'amico. Gli parve di vedere un luccichio divertito nei suoi occhi. Non so di che cosa parli, rispose. Smettila, George. Lo sanno tutti che E.K. Hamilton è tua moglie. Non capita tutti i giorni che un libro di poesia abbia un successo simile. Senti, Harry Dashwood pranza con me. Gli piacerebbe conoscerti. Chi diavolo è? Harry Dashwood. E perché vuole conoscermi? Oh, santo cielo, ma in che mondo vivi? Harry è forse il miglior critico che abbiamo. Ha scritto una splendida recensione del libro di Evie. Vuoi dirmi che Evie non te l'ha fatta vedere? Prima che George potesse rispondere, l'amico fece cena a un signore di avvicinarsi. Era un individuo alto, magro, con la fronte ampia, la barba, il naso lungo e un'andatura curva. In parole povere, il tipo di persona che George non aveva difficoltà a odiare a prima vista. Fatte le presentazioni, Harry Dashwood si sedette. «Mrs. Peregrine è a Londra, per caso? Mi farebbe molto piacere conoscere», disse il critico. «No, mia moglie non ama Londra. Preferisce la campagna», disse George freddamente. «Mi ha scritto una bella lettera, per ringraziarmi della recensione. Mi ha fatto piacere. Sanno, i critici ci prendiamo più calci che carezze. Il suo libro mi ha lasciato a bocca aperta. È fresco, originale, modernissimo, senza essere ermetico. Sua moglie sembra proprio agio, tanto con il verso libero quanto con i metri classici. Poi, ricordandosi del suo mestiere, Dashwood pensò di dover fare anche qualche critica. Ogni tanto la musicalità non è perfetta, ma la stessa cosa si può dire di Emily Dickinson. Parecchie delle liriche più brevi potrebbero essere state scritte dall'Andor. Per George Peregrine tutto questo era gergo e incomprensibile. Quell'individuo non era che un disgustoso intellettuale, ma il colonnello era ben educato e rispose con la dovuta compitezza. Henry Dashwood continuò come se non l'avesse sentito. Ma ciò che rende il libro straordinario è la passione che pulsa in ogni verso. I nostri giovani poeti sono così spesso anemici, freddi, esangui, tediosamente intellettuali. E qui invece c'è della vera passione, nuda e terrena. Naturalmente i sentimenti profondi e sinceri come questi sono tragici. Ah, mio caro colonnello, Hein aveva proprio ragione quando diceva che il poeta trasforma in piccole poesie le sue grandi pene. Sa, qui e là, leggendo e rileggendo quelle pagine strazianti, ho pensato a Saffo. Questo fu troppo per George Peregrine che si alzò. Bene, è davvero gentile da parte sua dire queste cose sul libricino di mia moglie. Sono sicuro che le faranno molto piacere, ma ora devo scappare. Devo prendere il treno e prima voglio mangiare un boccone. Che razza di idiota, si disse irritato, mentre saliva al piano di sopra per andare in sala da pranzo. Quella sera tornò a casa in tempo per la cena e quando Evie si fu ritirata andò nello studio e cercò il libro della moglie. Aveva intenzione di dargli di nuovo un'occhiata per capire che cosa avesse di tanto straordinario, ma non riuscì a trovarlo. Evie doveva esserselo ripreso. Sciocca, borbottò al colonnello. Le aveva detto che il libro gli era sembrato buono. Che cos'altro avrebbe dovuto dirle? Beh, la cosa aveva scarsa importanza. George Peregrine accese la pipa e la S. Field, fino a quando gli venne sonno. Ma circa una settimana più tardi, il colonnello dovette passare la giornata a Sheffield. In quell'occasione pranzò al suo circolo. Aveva quasi finito quando arrivò il duca di Haverhill. Il duca era la persona più influente del luogo. Naturalmente il colonnello lo conosceva, ma i loro rapporti non andavano oltre il buongiorno. Dunque George Peregrine si stupì quando il duca si fermò accanto al suo tavolo. «Ci spiace molto che sua moglie non possa venire per il fine settimana», disse il nobile, con una specie di timida cordialità. «Ci sarà molta gente interessante». George fu colto di sorpresa. Immaginò che gli Haverhill avessero invitato lui ed Evie per il fine settimana e che Evie, senza dirgli niente, avesse detto di no. Ebbe la presenza di spirito di esprimere anche lui il proprio rincrescimento. «Sarà per un'altra volta», disse il duca amabilmente, e passò oltre. Il colonnello Peregrine montò su tutte le furie e, quando tornò a casa, disse la moglie «Sentimi un po'. Che cos'è questa storia dell'invito ad Haverhill? Per che diavolo hai detto che non possiamo andare?» «Non ci avevano mai invitati prima d'ora e la riserva di caccia del duca è la migliore del paese». «Non ci ho pensato. Temevo che ti annoiassi». «Maledizione! Potevi almeno chiedermi se avevo voglia di andare». «Mi spiace». George l'ha scrutò attentamente. Nell'espressione del suo volto c'era qualcosa che gli sfuggiva. Agrottò la fronte. «Vuoi dire che non mi hanno invitato?» La trò. Evie arrossì leggermente. «Beh, è così». «Mi sembra una terribile maleducazione invitare te e non me». «Probabilmente gli Haverhill hanno pensato che non ti saresti sentito a tuo agio. La duchessa ama circondarsi di scrittori e di persone di quel genere. Ci sarà Harry Dashwood, il critico, che per qualche strana ragione vuole conoscermi». «S'è stata molto gentile a rifiutare l'invito». «Era il minimo che potessi fare», sorrisevi. «Poi ebbe un attimo di esitazione. «George, il mio editore, vuole organizzare una piccola cena in mio onore verso la fine del mese. Naturalmente sei invitato anche tu». «Oh, non credo che faccia per me. Se vuoi ti accompagnerò a Londra, ma mi cercherò qualcuno con cui cenare». Daphne. «Penso anch'io che non sarà divertente, ma l'editore ci tiene moltissimo. Il giorno dopo l'editore americano che ha comprato i diritti del mio libro darà un cocktail dal Claridge. Lì mi farebbe piacere che tu venissi». «Prevedo che mi annoierò a morte, ma se proprio lo desideri verrò. Sarebbe carino da parte tua». George Peregrine fu stordito dal cocktail. C'era tantissima gente. Alcuni degli invitati sembravano decenti. Qualche signora era vestita abbastanza bene, ma in generale gli uomini gli fecero una pessima impressione. A tutti fu presentato come il colonnello Peregrine, sa, il marito di A.K. Hamilton. Gli uomini non avevano niente da dirgli, le donne invece si sdilinquirono. «Come deve essere fiero di sua moglie. Non le pare un libro meraviglioso? Sa, l'ho letto tutto d'un fiato. Non riuscivo a posarlo e quando ho finito ho ricominciato da capo e l'ho letto tutto una seconda volta. Ero elettrizzata». L'editore inglese gli disse «erano vent'anni che un libro di poesia non aveva un successo di questo genere. Non ho mai visto recensioni così». L'editore americano gli disse «è un libro fantastico, in America farà furore, aspetti e vedrà». L'editore americano aveva mandato a Evi un grande ramo di orchidee. Che ridicolaggine, aveva pensato George. Man mano che entravano gli invitati venivano presentati a Evi ed era evidente che tutti le rivolgevano qualche complimento che Evi accettava con un sorriso gentile e una parola o due di ringraziamento. Era leggermente arrossata dall'eccitazione, ma sembrava perfettamente a suo agio. Sebbene giudicasse tutta la faccenda una scempiaggine, George notò con piacere che sua moglie si destreggiava nella maniera giusta. «Beh, è una cosa certa», pensò. «Si vede che Evi è una signora e questo è molto più di quanto si possa dire di tutti gli altri». Il colonnello beve molti cocktail, ma qualcosa lo turbò. Si accorse che alcune delle persone che gli venivano presentate gli lanciavano strane occhiate di cui non riusciva a capire il significato. A un certo punto, passando accanto a due signore sedute su un divano, ebbe la sensazione che queste parlassero di lui e, mentre si allontanava, fu quasi certo di sentirle sghignazzare. Quando il ricevimento terminò, il colonnello tirò un sospiro di sollievo. Nel tassì che li riportava in albergo, Evi gli disse «Sei stato fantastico, tesoro, hai fatto colpo. Le ragazze erano in deliquio per te, ti hanno trovato bellissimo». «Ragazze?» disse cupo il colonnello. «Vecchie streghe! Ti sei annoiato, tesoro? A morte!» Evi gli strinse la mano in un gesto di affetto. «Spero che non ti spiaccia se domani torniamo con il treno del pomeriggio. Al mattino ha un po' di cose da fare». «No, va benissimo. Compere? Sì, voglio comprare un paio di cosette, ma soprattutto devo andare a farmi fotografare. L'idea non mi piace, ma dicono che devo farlo. Per l'America, sai?» Il colonnello non disse nulla, ma rifletté, rifletté che il pubblico americano sarebbe rimasto male vedendo il ritratto della secca donnetta senza pretese che gli faceva da moglie. Aveva sempre avuto la sensazione che per gli americani ci volesse fascino. Continuò a riflettere. La mattina dopo, quando Evi uscì, andò al circolo. Salimbi Bileca cercò gli ultimi numeri del Times Literary Supplement, del New Statesman e dello spettatore. Non ci volle molto a trovare qualche recensione del libro di Evi. Una lettura frettolosa bastò fargli capire che i critici erano osannanti. Allora il colonnello si recò dal libraio di Piccadilli, dove di tanto in tanto comprava i suoi libri. Aveva deciso che doveva leggere con calma quelle maledette poesie di Evi, ma non voleva domandarle che cosa avesse fatto della copia che gli aveva data. Ne avrebbe comprata una. Prima di entrare diede uno sguardo alla vetrina e per prima cosa vide un'intera fila di piramidi in sfacelo. Che titolo stupido. Il colonnello entrò, un giovane commesso gli venne incontro e si offrì di aiutarlo. No, voglio solo dare un'occhiata. L'idea di chiedere il libro di Evi lo imbarazzava. L'avrebbe trovato da sé, poi l'avrebbe portato al commesso. Ma non lo vide da nessuna parte e alla fine, dato che il giovane era lì, a due passi, gli domandò con il tono più non curante possibile. «Tra l'altro ha un libro intitolato «Piramidi in sfacelo»?» «La nuova edizione è arrivata questa mattina. Le prendo una copia». Un attimo dopo il commesso tornò con il libro. Era un ragazzo grassottello e non molto alto, con gli occhiali e una zazzera arruffata di capelli color carota. George Peregrine, alto, dritto, molto militare, torreggiava su di lui. «Dunque questa è una nuova edizione?» domandò. «Sì, la quinta. Si direbbe un romanzo da come si vende». George Peregrine ebbe un'esitazione. «Secondo lei, perché ha tanto successo? Ho sempre creduto che nessuno leggesse poesia». «Beh, è un buon libro, l'ho letto anch'io». Il commesso, anche se sicuramente istruito, aveva un leggero accento cockney e George assunse istintivamente un atteggiamento condiscendente. «È la storia che piace, erotica, capisce, ma tragica». George aggrottò la fronte. Stava aggiungendo la conclusione che il giovanotto era molto impertinente. Nessuno gli aveva detto che in quel maledetto libro c'era una storia e lui non l'aveva capito nemmeno leggendo le recensioni. Il commesso continuò. «Naturalmente è solo un fuoco di paglia, non so se mi spiego. Secondo me l'autrice è stata ispirata da un'esperienza personale, un po' come Hausman né un ragazzo dello Shropshire. Non scriverà mai nient'altro». «Quanto costa il libro?» disse George freddamente per mettere fine al chiacchiericcio. «Non occorre che mi faccia un pacco, lo infilerò in tasca». La mattina di novembre era rigida e il colonnello indossava un soprabito pesante. Alla stazione comprò i giornali pomeridiani e qualche rivista. In treno George ed Evi si sedettero negli angoli opposti dello scompartimento di prima classe e lessero. Alle cinque passarono nel vagone ristorante per il tè e conversarono un po'. Quando arrivarono andarono a casa con la macchina che li stava aspettando. Fecero il bagno e si vestirono per cena. Dopo cena, dicendo di essere stanchissima, Evi andò a letto. Come al solito, baciò il marito sulla fronte. Poi il colonnello uscì nel vestibolo, prese il libro di Evi dalla tasca del soprabito, si chiuse nello studio e cominciò a leggere. Non aveva molta dimestichezza con i versi. Sebbene leggesse con attenzione, senza saltare una sola parola, il libro gli lasciò un'impressione tutt'altro che chiara. Allora ricominciò da capo e lo lesso una seconda volta, con crescente malessere. Ma non era uno stupido e quando lo finì aveva ormai capito benissimo. Il libro era scritto parte in versi sciolti, parte in versi tradizionali, ma la storia che raccontava era ovvia e comprensibile anche per l'intelletto più mediocre. Raccontava l'appassionata storia d'amore tra una donna matura e sposata e un giovane. George Peregrin ne individuò le varie fasi con grande facilità, come 2 più 2 fa 4. Scritta in prima persona, la storia cominciava con la trepida meraviglia della donna ormai sfiorita in cui si fa strada all'idea che un giovane si è innamorato di lei. Dapprima la donna stenta a credervi, teme di ingannarsi. Si spaventa a morte quando scopre di essere pazza d'amore per lui. Si dice che tutto ciò è assurdo, con una simile differenza d'età. Se mai cedesse i propri sentimenti, si condannerebbe all'infelicità. Tenta di impedirgli di parlare, ma giunge il giorno in cui il giovane gli dichiara tutto il suo amore. La costringe a dirgli che anche lei lo ama e la supplica di fuggire con lui. Ma la donna non se la sente di lasciare il marito in casa. Che vita li attenderebbe? Lei è ormai matura, lui così giovane. Come può illudersi che il suo amore durerà? Allora lo supplica di avere pietà di lei. Ma si scontra con un amore impetuoso. Il giovane la desidera, la desidera con tutto il cuore. E alla fine tremante, spaventata, bramosa, la donna gli si abbandona. Segue allora un periodo di estatica felicità. La vita, la noiosa manota una vita di ogni giorno, si accende di meraviglia. Dalla penna sgorgano canzoni d'amore. La donna adora il corpo giovane e virile del suo amante. George avvampò cupamente quando lesse l'elogio del petto ampio e dei fianchi stretti, delle splendide gambe e del ventre piatto. Roba che scotta, aveva detto l'amico di Daphne. Proprio così, disgustoso. C'erano anche brevi, tristi componimenti in cui la donna si lamentava della vuotezza della vita quando l'amante, come era inevitabile, l'avrebbe lasciata. Ma queste poesie terminavano con un grido. Ogni sofferenza sarebbe stata ripagata dai momenti di beatitudine che aveva vissuti. La donna parlava delle lunghe e trepide notti passate insieme, dell'angore che li cullava e li faceva addormentare l'uno nelle braccia dell'altra, dell'estasi di brevi istanti rubati in cui, sfidando ogni pericolo, gli amanti si lasciavano travolgere dalla passione e cedevano al suo richiamo. La donna pensava che la storia sarebbe finita dopo qualche settimana, ma miracolosamente era durata. In una delle poesie diceva che tre anni erano passati senza attenuare l'amore che colmava i loro cuori. A quanto sembrava, il giovane aveva continuato a insistere perché la donna fuggisse con lui, lontano, in una città sulle colline italiane o su un'isola greca o fra le mura di una città fortificata tunisina, in modo da poter restare sempre insieme. Ma in un'altra poesia la donna lo implorava di lasciare le cose come erano. La loro felicità era precaria. Forse il loro amore aveva conservato così a lungo l'incantevole ardore del primo momento proprio per le difficoltà che doveva superare e per la rarità dei loro incontri. Poi all'improvviso il giovane era morto. George non riuscì a scoprire né come, né quando, né dove. Seguiva un lungo, disperato grido di intenso dolore, un dolore che non poteva sfogarsi, un dolore che si doveva nascondere. La donna doveva fingersi allegra, dare ricevimenti e uscire a cena, comportarsi come sempre, anche se sulla sua vita era scesa la notte, anche se l'angoscia le spezzava le reni. L'ultima poesia era composta di quattro brevi strofe in cui l'autrice, mestamente rassegnata alla sua perdita, ringraziava le forze oscure che governano il destino dell'uomo per il privilegio di avere goduto, almeno per qualche tempo, della massima felicità che si è dato conoscere alle misere creature umane. Quando finalmente George Peregrine posò il libro, erano le tre del mattino. In ogni verso gli era sembrato di udire la voce di Evie e a ogni piesso spinto aveva incontrato espressioni già sentite sulle sue labbra, particolari e familiari tanto a lui quanto a lei. Non potevano esserci dubbi. Evie aveva raccontato la sua storia e anche un cretino avrebbe capito che aveva avuto un amante e che l'amante era morto. Il colonnello era sicuramente inorridito e costernato, ma più che rabbia, orrore o costernazione provò stupore. Che Evie potesse avere avuto una storia d'amore, per di più selvaggia e passionale, sembrava impossibile. Proprio come era impossibile che la trota sotto la campana di vetro sulla mensola del caminetto del suo studio, la più bella che il colonnello avesse mai pescata, dimenasse improvvisamente la coda. Ora capiva l'espressione divertita degli occhi dell'amico con cui aveva conversato al circolo. Capiva perché Daphne, parlando del libro, gli aveva dato l'impressione di ridere alle sue spalle e anche perché quelle due signore al cocktail avevano sghignazzato quando era passato davanti a loro. Gli venne il sudore freddo. Poi di colpo George fu preso dalla rabbia e balzò in piedi per andare a svegliare Evie e chiederle seccamente una spiegazione. Ma si fermò davanti alla porta. In fondo che prove aveva? Un libro. Ricordò di averle detto che il libro gli era sembrato buono. In realtà non l'aveva quasi aperto, però aveva finto di averlo letto. Avrebbe fatto la figura del cretino, se avesse dovuto ammetterlo. «Devo stare attento a ciò che dico», borbottò il colonnello. Decise di aspettare due o tre giorni e di riesaminare con calma tutta la faccenda. Solo allora avrebbe stabilito che cosa fare. Poi andò a letto, ma per un bel po' non riuscì a prendere sonno. «Evi», continuò a ripetersi, con tutta la gente che c'è, «Proprio Evi». La mattina dopo, come al solito, si videra a colazione. Evi era quella di sempre, tranquilla, schiva, padrona di sé. Una donna di mezza età che non faceva alcuno sforzo per sembrare il più giovane. Una donna che non aveva nulla di ciò che il colonnello avrebbe definito fascino erotico. dopo anni e anni il marito la guardò con occhi diversi. La sua calma serena era quella di sempre. I suoi occhi azzurro pallido erano imperturbati. Sulla sua candida fronte non c'era segno di colpa. Evi faceva le solite, banali osservazioni di sempre. «E' piacevole essere di nuovo in campagna dopo due giorni frenetici a Londra. Che cosa fai questa mattina?» Il colonnello non sapeva più che cosa pensare. Tre giorni dopo andò dal suo avvocato oltre che suo consulente legale Henry Blaine era un vecchio amico di George. Aveva una casa non lontano da quella di Peregrine e per anni entrambi erano andati a caccia l'uno nella riserva dell'altro. Per due giorni alla settimana Henry Blaine faceva il gentiluomo di campagna. Per gli altri cinque si dava da fare come avvocato a Sheffield. Era alto, robusto con una risata gioviale e modi chiassosi dai quali si ricavava l'impressione che preferisse essere considerato in primo luogo un cacciatore e un amicone e solo incidentalmente un avvocato. Ma era acuto e aveva esperienza delle cose del mondo. «Oh George qual buon vento ti porta?» attuonò Henry quando il colonnello entrò nel suo ufficio. «Te la sei passata bene a Londra? La prossima settimana ci porto mia moglie per un paio di giorni. Come stai, Evie?» «Sono qui proprio per parlarti di Evie» disse Peregrine lanciandogli un'occhiata sospettosa. «Hai letto il suo libro?» Negli ultimi giorni di tormentose riflessioni la sua sensibilità si era acutizzata e George si accorsa di un lieve cambiamento nell'espressione dell'avvocato. Gli parve che l'amico avesse improvvisamente alzato la guardia. «Sì, l'ho letto. Gran successo, vero?» Chi l'avrebbe mai detto che Evie si sarebbe data alla poesia? Le sorprese non finiscono mai. George Peregrine aveva i nervi a fior di pelle. «Mi ha fatto fare la figura del perfetto idiota!» «Oh George non essere assurdo! Non c'è niente di male nel fatto che Evie abbia scritto un libro. Dovresti essere fierissimo di lei. Piantala con queste scemenze. La storia che racconta è la sua. Lo sai tu e lo sanno tutti. Probabilmente sono il solo che non sa chi fosse il suo amante. Non hai mai sentito parlare dell'immaginazione vecchio mio? Che ragione c'è di pensare che non sia tutta una finzione? Sentimi bene, Harry, ci conosciamo da una vita. Abbiamo passato dei bellissimi momenti insieme. «Sì sincero con me. Hai il coraggio di guardarmi in faccia e di dirmi che sei convinto che la storia è inventata?» Harry Blaine si diminò sulla sedia. Era disagio. L'angustia che trapelava dalla voce del vecchio George lo turbava. «Non hai diritto di farmi questa domanda. Chiedi a Evie?» «Non oso», disse George dopo una pausa angosciata. «Ho paura di sentirmi dire la verità». Ci fu un silenzio imbarazzato. «Chi era l'amichetto?» Harry Blaine guardò il colonnello dritto negli occhi. «Non lo so. E se lo sapessi non te lo direi. Bastardo! Non capisci in che posizione mi trovo. Pensi che sia piacevole essere messo la berlina?» L'avvocato si accese una sigaretta e aspirò qualche boccata in silenzio. «Non vedo che cosa posso fare per te», disse finalmente. «Immagino che tu abbia degli investigatori privati. Voglio che tu li metta sotto finché non scoprono tutto». «Non è una cosa carina indagare di nascosto sulla propria moglie, vecchio mio? E poi, anche ammettendo che Evie abbia avuto una relazione, non caveremo un ragno dal buco. Sono passati troppi anni e a quanto pare devono essere stati molto attenti a non lasciare tracce». «Me ne infischio. Metti sotto i tuoi investigatori. Voglio conoscere la verità». «No, George. Se sei deciso a fare una cosa del genere, rivolgiti altrove. Ma stammi a sentire. Anche se tu trovassi le prove che Evie ti ha tradito, a che cosa ti servirebbero? Se divorziassi perché tua moglie ha commesso adulterio dieci anni fa, passeresti per stupido. Potrei mettere le cose in chiaro con Evie. Puoi farlo anche ora. Ma sai bene quanto me, che se lo fai, Evie ti lascerà. È questo che vuoi?» George gli lanciò un'occhiata infelice. «Non lo so. Avevo sempre pensato che fosse la moglie ideale. Evie manda avanti la casa alla perfezione. Mai un fastidio con i domestici. Ha fatto meraviglia in giardino e con la gente del villaggio è fantastica. Ma accidenti, devo pur pensare al mio amor proprio. Come posso continuare a vivere con lei sapendo che mi è stata smaccatamente infedele? Tu le sei sempre stato fedele? Più o meno, sai com'è. In fondo siamo sposati da quasi 24 anni ed Evie non ha mai fatto favilla a letto. L'avvocato inarcò leggermente le sopracciglia ma George era così preso da ciò che stava dicendo che non se ne accorse. Non nego di essermi preso qualche libertà di tanto in tanto. Gli uomini ne hanno bisogno per le donne diverso. Bisognerebbe sentire anche il loro parere disse Harry Blaine con un flebile sorriso. Se me l'avessero chiesto avrei detto che Evie era l'ultima donna al mondo capace di una simile levata di scudi. Insomma, è una donna riservata di gusti difficili. Che cosa diavolo le ha fatto scrivere quel maledetto libro? L'intensità di quell'esperienza immagino è forse il bisogno di levarsi un peso dallo stomaco. Beh, se proprio doveva scriverlo perché diavolo non ha usato uno pseudonimo. Ha usato il suo nome da nubile. Probabilmente pensava che fosse sufficiente e così sarebbe stato se il libro non avesse avuto questo incredibile successo. George Peregrine e l'avvocato erano seduti l'uno di fronte all'altro ai due lati della scrivania. George, con il gomito sul tavolo e la guancia sulla mano, aggrottò le ciglia colto da un nuovo pensiero. È davvero seccante non sapere niente di quell'individuo. Non so neanche se fosse una persona come si deve. Insomma, per quel che ne so poteva essere un bracciante o un impiegato di uno studio legale. Harry Blayne non si permise di sorridere. Quando rispose nei suoi occhi c'era uno sguardo benevolo e tollerante. Conoscendo bene Evie la cosa più probabile è che fosse una persona per bene. In ogni caso sono sicuro che non si trattava di un impiegato del mio ufficio. Per me è stato un vero colpo sospirò il colonnello. Pensavo che Evie mi volesse bene. Invece mi odia altrimenti non avrebbe potuto scrivere quel libro. Oh, non ci credo. Evie è incapace di odiare. Non vorrei dirmi che mi ama? No. Bene, allora che cosa prova per me? Harry Blayne si appoggiò allo schianale della sedia girevole e guardò George con aria pensosa. Indifferenza, direi. Il colonnello ebbe un fremito e rossì. In fondo nemmeno tu l'ami, no? George Peregrine non rispose direttamente. Per me è stato molto umiliante non avere figli ma io non le ho mai fatto pesare la mia delusione. Ho sempre cercato di trattarla gentilmente. Nei limiti del ragionevole ho cercato di fare il mio dovere nei suoi confronti. L'avvocato si passò la grossa mano sulla bocca per nascondere il sorrisetto che gli tremolava sulle labbra. Per me è stato un colpo durissimo continuò Peregrine. Maledizione! Dieci anni fa Evie non era più una giovincella e Dio sa che non era nemmeno un granché. Che brutta storia! Il colonnello sospirò profondamente. Tu che cosa faresti al mio posto? Niente. George Peregrine si drizzò di scatto sulla sedia e fissò Harry con l'espressione severa che probabilmente assumeva per passare in rivista al reggimento. Non posso fare finta di niente. sono stato coperto di ridicolo non potrò più camminare a testa alta. Stupidaggini! disse l'avvocato bruscamente poi in tono gentile e benevolo aggiunse ascoltami. Quell'uomo è morto. L'intera storia risale a molto tempo fa. Dimenticala. Parla a tutti del libro di Evie. Dimostratene entusiasta. Di come sei fiero di lei. comportati come se tu avessi la più totale fiducia in lei. Come se tu sapessi che Evie non avrebbe mai potuto tradirti. Il mondo gira in fretta e la gente ha la memoria corta. Presto tutti dimenticheranno. Ma io no. Siete una coppia di mezz'età. Probabilmente Evie fa per te molto più di quanto tu pensi e senza di lei ti sentiresti solo. Dimenticare o no non ha molta importanza. Sarà già qualcosa se riuscirai a ficcarti in quel testone che Evie ha molte più qualità di quelle che ti sei mai degnato di vedere. Accidenti. Parli come se la colpa fosse mia. No. Non penso che la colpa sia tua. Ma nemmeno che sia di Evie. Non credo che volesse innamorarsi di quel giovane. Ricordi gli ultimissimi versi? Ho avuto l'impressione che Evie anche se affranta della morte dell'amante ne fosse per qualche strana ragione contenta. Non aveva mai perso la coscienza della fragilità del legame che li univa. Il ragazzo era morto nel rigoglio del suo primo amore. Senza sapere che di rado l'amore resiste al tempo aveva avuto modo di conoscerne solo la felicità e la bellezza. Nel suo tremendo dolore Evie si è consolata pensando che a lui almeno era stata risparmiata ogni pena. Parli difficile vecchio mio ma mi sembra di capire quel che vuoi dire. George Peregrin fissò con aria infelice il calamaio sulla scrivania e restò in silenzio e l'avvocato lo guardò con un misto di curiosità e di compassione. Ti rendi conto del coraggio di Evie che non ha mai mostrato il minimo segno della sua terribile infelicità disse con voce sommessa. Il colonnello Peregrin sospirò sono disperato ma immagino che tu abbia ragione non serve piangere sul latte versato e se piantassi grane non farei che peggiorare le cose. Dunque? Sulle labbra di George Peregrin comparve un pietoso sorrisetto seguirò il tuo consiglio non farò nulla vadano tutti all'inferno lascerò che mi considerino un cretino in realtà non so che cosa farei senza Evie. Sappi però che c'è una cosa che non capirò mai in nome del cielo che cosa ci trovava in lei quel tale. Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti.